E' sempre stato fissa con sta minchiata della banda della Magliana. Ma tu guarda questo come ha scritto tu. Eccoci qua eh, da parte della banda della Magliana. Ma voi veramente pensate che fai i sordi con sto tour? Ma che è? Un E? Un bar? Che è? Un locale. E sarà un locale? Dai proviamo ad entrare di qua. Ma c'era una medievole. Ci stanno i mondiali. Abbiamo appena abbattuto l'Argentina. Ma lo capito no che stavo nel 1982. Chi sta a far col telefonino? Che prendono per pazzo? Mettilo lì. No, sono postato da un po' di tempo le sigarette elettroniche. E che? Mettavo il tablet, Facebook e il pulcino Pio. Siamo se Roma! Moreno! Qua scherziamo su tutto tranne che sui sordi. E io lo mandranno! Renatino, Renatino. E' il boss. Proporrei una piccola dilazione con gli interessi e naturalmente... Sono da 32 euro. Non sei contento? Fa una amicizia. Dammi tre parole, sole, cuore, amore. Ma che sei? Che poverino? Non sapevo io che stanno... Vabbè, ma io che ne sapevo che è la fidanzata del boss? Dammi tre parole, sole, cuore, amore. Chi sei? Il mio nome è Jobs. Steve Jobs. Fermi tutti, questa è una rapina! Giulia Harvey! E voi chi siete? Samigis! Igisio direito! E voi chi anche, hai ragione! E voi chi non ti senti, puoi? E voi chi non ti senti? E voi chi non ti senti? E voi chi non ti senti? Grazie a tutti.